segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te bentornato marco travaglio direttore del fatto quotidiano in edicola in libreria con israele e i palestinesi in poche parole per paper first allora è un libro che è una sorta di bignami che riconostruisce la storia del conflitto arabo israeliano speriamo di avere l'occasione parlandone con te di chiarire tanti dubbi che abbiamo tutti innanzitutto dici perché ti sei sentito di spenderti in un campo che non è tradizionalmente quello in cui ti spendi perché questa volta bisogna c'è bisogno di chiarezza ma questo è un argomento di cui mi sono occupato poco sul giornale ma molto nei miei studi personali è una questione che mi appassiona da sempre e che conosco abbastanza bene quando ho letto dopo il pogrom del 7 ottobre una serie infinita di sciocchezze dette sia dalla curva ultra israele senza se senza ma sia dalla curva ultra palestinesi senza se senza ma ho pensato che fosse opportuno in poche parole proprio per dare un'infarinatura per evitare appunto che si dicano delle enormità mettere in fila i fatti questo non è un libro di storia non sono uno storico non sono nemmeno un mitomane che si crede uno storico sono un cronista e quindi ho fatto una cronaca delle cose fondamentali poi alla fine c'è un dizionario delle parole difficili che vengono usate sempre sul medio oriente poi di un elenco di libri di tutti gli orientamenti nel caso in cui uno lo voglio approfondire però almeno piantare qualche chiodo per evitare di pensare che si possa dare tutta la colpa all'uno e tutte le azioni all'altro questa è la premessa ideale per cercare di approcciare una questione così complessa e delicata allora cominciamo dall'inizio com'è nato lo stato di israele e perché sta lì? è nato il 14 maggio del 1948 in virtù di una risoluzione dell'onu dell'anno prima del 1947 l'onu era appena nata dalle ceneri della società delle nazioni e visto che quella che si chiama palestina anche se poi non c'è mai stato uno stato di palestina in quel momento era un mandato affidato dall'onu agli inglesi decisero di dividere il territorio che va dal fiume giordano al mediterraneo chiuso a nord da libano e siria e chiuso a sud dall'egitto in due stati lo stato di israele e lo stato arabo palestinese se le classi dirigenti arabe e palestinesi avessero accettato quella risoluzione avremmo da 75 anni i due popoli e due stati di cui continuiamo a parlare speranzosi da tanti anni senza vederli perché nel 48 nasce solo lo stato di israele i vertici palestinesi arabi ritengono che non sia urgente fondare uno stato palestinese ma sia urgente cacciare gli ebrei dalla loro porzione di palestina assegnata dall'onu fanno la prima guerra per buttare a mare gli ebrei e la perdono e come perderanno le altre tre questo spiega perché ci sono dei territori occupati da israele in parte nel 48 dopo aver vinto la prima guerra in parte in gran parte nel 67 dopo aver vinto la terza guerra quella dei sei giorni e poi in parte quei territori sono stati restituiti all'egitto perché l'egitto ha fatto la pace unico stato arabo per molti anni a fare la pace con israele ragion per cui sadat fu prima espulso dalla lega araba con l'egitto e poi fu assassinato da un estremista e poi nel 93 si arriva alla pace tra israele e l'olp arafat e arabin a oslo purtroppo quella pace non ha portato alla nascita dei due stati perché negli ultimi 15 anni hanno vinto i due opposti estremismi da una parte quello di netanyahu e dall'altra parte quello di hamas stiamo parlando di territori molto piccoli vero anche per farsi un'idea di questa è la cosa che pochi tengono in conto israele è grosso come la puglia tutti i territori contesi quindi israele più la cisgiordania più gaza corrispondono al piemonte più la valle d'aosta con 15 milioni di abitanti malcontati 7 milioni e mezzo di ebrei 7 milioni e mezzo di arabi palestinesi la striscia di gaza è grande un decimo della valle d'aosta e a 2 milioni e mezzo di persone che in questi giorni vanno su e giù senza poter scappare ovunque vadano prendono bombe e muoiono dunque quindi è molto importante sapere quanto è grande il territorio che dovrebbero dividersi per capire che se i due popoli non si fidano l'uno dell'altro addirittura si odiano si temono non accetteranno mai di vivere uno accanto all'altro uno sopra l'altro quindi non bastano le pressioni internazionali allora bisogna persuadere i due popoli che possono convivere senza sentirsi minacciato l'uno dall'altro il problema della realtà no cioè non riuscirai mai a separarli tanto da farli stare tranquilli saranno sempre attaccati allora dici tu c'è bisogno di un lavoro come stai dicendo ora politico culturale ma che passa dalla pulizia del linguaggio cioè per la pulizia del linguaggio significa che non si può dare tutte le colpe agli uni e tutti i torti agli altri o paragonare continuamente gli ebrei e i nazisti o paragonare tutti i palestinesi ad hamas bisogna capire perché hamas ha vinto le uniche elezioni per il parlamento dell'autorità nazionale palestinese nel 2006 bisogna capire perché l'occidente prima li ha incoraggiati a candidarsi quelli di hamas e poi quando hanno vinto ha cominciato il boicottaggio tra l'altro trasformandoli nell'unica entità che distribuiva stipendi a gaza con i soldi del catar bisogna capire tante cose bisogna capire che non è sempre andata così ci sono stati dei momenti soprattutto nel 93 nel 2000 e nel 2005 nel 2008 in cui si è andati a tanto così dal realizzare il sogno dei due popoli nei due stati purtroppo ogni volta o per un attentato o per un ictus come quello che colpisciaron o per un'elezione andata come andata la pace che sembrava vicina si è allontanata nel 2000 il premier israeliano barack offrì ad arafat il 93 94 per cento della cisgiordania e tutta gaza e arafat rifiutò nel 2005 sharon ritirò le truppe e soprattutto gli 8500 coloni con i bulldozer perché non se ne volevano andare dalla striscia di gaza non è vero che oggi che fino al 7 ottobre israele occupava gaza israele non occupava più gaza dal 2005 la cinturava asfissiantemente ai confini ma gaza era governata da hamas non da israele e dall'esercito israeliano purtroppo quando sharon che era un falco doc si mette insieme a shimon peres lascia il likud dove c'era netaniao che era contro i due popoli due stati e insieme falco e colomba fondano kadima un partito che si chiama avanti e che si batte per i due popoli due stati e sharon è colto da ictus gli subentra il suo vice che è olmert e olmert fa 36 incontri in due anni con abomazze in casa sua a gerusalemme e nell'ultimo gli srotola una mappa in cui gli disegna i confini del futuro stato palestinese il 94% della cilgiordania tutta la striscia di gaza e la parte mancante perché troppo piena di colonie israeliane gliela compensa con il 5% di territorio che israele ha dal 48 quando il capo delegazione palestinese vede quella mappa dice ad abomazze in firmiamo quando ci ricapita ci offrono più del 100% di quello che chiediamo e abomazze incredibilmente si dà e invia un successivo incontro che non si terrà mai perché abomazze non si farà più trovare nel frattempo cade il governo olmert si va alle elezioni e chi vince? la coalizione con Netanyahu che inizia 15 anni di regno in interroga allora pensa quanto il fattore umano ha contato in questa guerra che ha un'alternanza di torti e di ragioni ecco non solo il fattore umano ma decisivo il fattore politico chi è Netanyahu e che politica da quel momento inizia? Netanyahu è un sabotatore della pace è un corpo estraneo nella tradizione dei premieri israeliani ha vissuto quasi più in America che in Israele ha ottimi rapporti con settori molto conservatori del partito repubblicano non ha rapporti con i democratici per questo i fervorini di Biden non funzionano i suoi referenti sono dall'altra parte ci ha provato già nel 96 dopo l'uccisione di Rabin ammazzato da un estremista ebraico proprio per aver fatto la pace con Arafat governò già due anni dal 96 al 98 Netanyahu e provò già lì a sabotare il percorso di pace poi per fortuna arrivarono Barak, Sharon e Olmert e poi dal 2009 ha ricominciato per 14 anni ininterrottamente a sabotare il percorso di pace con due scelte fondamentali uno finanziare e incentivare ulteriori insediamenti ebraici in Cisgiordania che si erano un po' interrotti tant'è che oggi sono 470.000 i coloni ebraici nei territori palestinesi della Cisgiordania più 230.000 a Gerusalemme Est e smantellarli ammesso che qualcuno lo voglia fare sarà un casino ci vorrebbe un altro Sharon con quel peso e con quell'autorevolezza e ci vorrebbe un altro clima internazionale perché al momento siamo al massimo dell'esaltazione degli estremismi infatti io ti porterei al momento di Oltre l'altra scelta folle in Netanyahu è stata quella di sabotare l'autorità nazionale palestinese della vecchia classe dirigente l'OLP, Abu Mazen, gli eredi di Arafat per favorire in ogni modo Hamas perché se vince Hamas non c'è tavolo di trattativa e tu puoi continuare a colonizzare i territori e a rimuovere il problema basta non parlare dei palestinesi di nascondere sotto il tappeto la polvere e spariranno i 2 milioni di palestinesi che ci sono in Cisgiordania e 2 milioni e mezzo che ci sono a Gaza così, paf questa è la politica da apprendista stregone di Oltrenau che ha rapito per tanti anni anche una buona parte del popolo israeliano quello che dici nel tuo libro è che Israele che era Davide si è trasformato in questo modo in Golia in questo momento cosa stiamo vivendo? beh, il 7 ottobre dopo tanti anni in cui Israele era sembrato Golia e i palestinesi Davide la vista di quei 1300-1400 civili morti, ragazzi del rave i civili, i bambini, dei kibbutz Israele era sembrato per un attimo tornare Davide infatti aveva avuto una solidarietà mondiale addirittura nei paesi arabi Netanyahu nel giro di due mesi è riuscito a farlo ritornare ben peggio che Golia Erode perché ha fatto più morti lui in due mesi di Putin in due anni civili, eh? parlo di civili di Putin in due anni di guerra in Ucraina solo che Putin ha un mandato di cattura internazionale quando arriva il mandato di cattura internazionale per l'altro criminale di guerra che si chiama Netanyahu che sta fomentando l'antisemitismo è imputato di crimini di guerra ancora non c'è sì, non ci sono state naturalmente ancora ma è imputato di corruzione e frode questo è in casa sua questo anzi qualcuno dice che la guerra è destinata a non finire perché se finisse lui finirebbe di nuovo sotto giudizio allora se gli israeliani la questione tra Israele e Palestina può essere descritta in poche parole può essere in poche parole individuata un percorso di uscita certo non la soluzione di una crisi di questa portata ma qual è il percorso che può portare alla soluzione? Ah io non lo so perché in questo momento parlare di due popoli due stati è come pensare di far ritornare il dentifricio nel tubetto una volta che è uscito cioè qui ci vorrebbe uno statista in Israele uno statista a capo del movimento palestinese uno statista a Washington è uno statista a Bruxelles e non se ne vede uno da nessuna parte non parliamo poi dell'Italia dove la Meloni parla di favore delle tenebre e l'altro ieri abbiamo scoperto da Lloyd Austin cioè dall'americano che noi italiani facciamo parte di una coalizione armata per combattere gli UTI cioè i combattenti pirati iemeniti che scorribandano nel Mar Rosso ma possiamo scoprirlo dalla dichiarazione di un americano che noi siamo entrati in una nuova coalizione armata mentre la Meloni ci parla della Ferragni e del Pandoro e perché non ne parlano in Parlamento? Perché dobbiamo scoprire da una telefonata con i comici russi quello che pensa davvero la Meloni della guerra in Ucraina e cioè che siamo stanchi e che bisogna trovare un compromesso che vada bene ai russi e agli ucraini perché non lo dice in Parlamento e anzi in Parlamento alla chetichella sta passando l'ottavo decreto armi altro che favore delle tenebre Marco Travaglio Israele e i palestinesi in poche parole grazie Travaglio grazie a voi grazie a voi grazie a voi